A uomini e donne Maria dei Filippi compie un gesto esemplare verso un cavaliere nel corso della puntata di oggi, che spiazza proprio tutti. Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano al centro della scena, per l'ennesima Maria ora tenta di sistemare definitivamente la loro situazione. Riesce davvero in questa impresa? Ancora non si sa, perché entrambi hanno sempre dimostrato di essere imprevedibili quando si tratta del loro rapporto. Oggi il confronto prende inizio dalle ultime novità riguardanti Ida. La parrucchiera bresciana è uscita con Giuseppe e Claudio, due cavalieri del trono over. Maria fa notare che, in effetti, quando lei esce con altre persone è sempre sorridente. Quando, però, si ritrova al centro studio con Riccardo succede sempre l'infè. A questo punto, De Filippi manda in onda un filmato che li riguarda. Dopo la registrazione della scorsa puntata, Riccardo e Gemma Galgani si sono confrontati. In particolare, la dama torinese non ha trovato giusto che il cavaliere la citasse nel suo momento con Federica Aversano. In quella occasione, Guarnieri era stato attaccato per via della differenza d'età, che c'è con la tronista, e così ha tirato in ballo la conoscenza di Gemma con Nicola Vivarelli. Il confronto a fine puntata, ha generato una discussione di ben 40 minuti tra Riccardo e Ida, tra urla e lacrime. Dopo aver visto il video, Tina Cipollari attacca subito Ida. Tutto il mondo ha visto, che il carattere di Riccardo è questo. Non sei una piccola fiammiferaia. Sei scaltra e con gli occhi ben aperti quando vuoi tu. Tu elenchi sempre cosa avresti voluto avere e quello che lui non ti ha dato. Proprio mentre Ida e Riccardo si stanno confrontando per l'ennesima volta nello studio di Ued, decide di intervenire Claudio, una delle nuove conoscenza della gama. Consiglia a Guarnieri di essere più tranquillo. Da qui parte un battibecco, durante il quale Riccardo perde decisamente le staffe. Infatti, il cavaliere Tarantino si alza dalla sua sedia, e raggiunge Claudio per sfidarlo faccia a fa. Il pubblico di Canale 5 non ha modo di vedere i dettagli di questa rissa sfiorata, in quanto volutamente l'inquadratura cambia obiettivi e riprende solo Ida. A infastidire Guarnieri, e a provocare la sua dura reazione è l'accusa di Claudio. Sei molto presuntuoso. Guardami quando parlo. Fortunatamente non vanno oltre e Claudio lascia lo studio, mentre Riccardo chiede subito scusa a Maria. La padrona di casa condanna comunque il suo comportamento, ovviamente. Grazie a tutti.